S'umana la bomba che scopi mitraglia, disponi petardi, impugna le star, impugna le star, propaga l'idea rivoluzionaria, la gran libertaria che i ciepi spezzò. Presto anarchici accorriamo a pugnare per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite, ogni classe di governo ha di spar e deve là. E l'ora che è spenta, sia la dittatura, vergogna e tortura, del mondo civil, del mondo civil, non più militari, né classi borghese, suffoca le chiese e abbasso il poter. Presto anarchici accorriamo a pugnare per la vittoria o di morire, con petrolio e dinamite, ogni classe di governo ha di spar e deve là. E l'ora che è spenta, sia la dittatura, vergogna e tortura, del mondo civil, del mondo civil, non più militari, né classi borghese, suffoca le chiese e abbasso il poter.